Siamo abbracciati dalla pubblica amministrazione per poter abbracciare e portare il digitale ai cittadini. Non so chi di voi è stato alla presentazione di questa mattina, che c'era anche il mio capo Diego Piacentini. Se volete saperne di più per quanto riguarda il nostro progetto potete collegarvi sotto teamdigitalegoverno.it che noi presentiamo tutti i progetti, i dati dei nostri progetti, chi siamo e cosa facciamo. La storia del team nasce dal governo precedente, il governo Renzi, che ha avuto questa intuizione di cercare di dare una spinta al digitale nella pubblica amministrazione italiana. Per fare questo è riuscito a convincere Diego Piacentini, che è un importante manager di Amazon, prima era di Apple, e a settembre, a metà settembre del 2016, ha creato tramite un decreto la struttura del commissario straordinario per l'agenda digitale, incaricando Diego Piacentini di questo compito. L'unica condizione che ha dato per poter diventare commissario era quella di poter creare un proprio team di esperti del mondo digitale, provenienti da varie aziende. La sua idea era quella di creare una specie di start-up, di riprendere il modello delle start-up e portare all'interno di Palazzo Chigi e attraverso questo team di tecnici, che lavorano direttamente a castetto contatto col governo, dare una spinta molto importante per quello che è il digitale in Italia. Ho molti colleghi che vengono da Google, Yahoo, alcuni da Red Hat, e tra l'altro sono riuscito ad entrare anch'io da Trento, quindi per me è un motivo di grande orgoglio, anche perché io non sono mosso molto, ho sempre lavorato tra Trento e Bolzano, quindi è stata per me proprio una sorpresa. Addirittura, non so se voi sapete la storia, ma Diego aveva pubblicato su Medium una specie di chiamata alle armi per poter entrare nel team, io l'avevo letto, come quando si dice nei film, senza neanche crederci, ho mandato il curriculum, poi da lì ho fatto un vario percorso, ognuno di noi ha fatto vari colloqui come si fa per entrare nelle grandi aziende, con anche dei test tecnici, quindi programmazione o matematici, e poi alla fine, dopo vari colloqui, sono entrato anch'io a gennaio del 2017. Quindi ormai sono un anno e tre mesi che lavoro all'interno del team digitale. È un'esperienza bellissima, perché proprio si respira questo entusiasmo come quello che c'è all'interno delle start-up, per cui si lavora tantissimo, si fanno un sacco di cose, però si impara anche tanto. C'è proprio questo forte entusiasmo di ridare al paese le proprie conoscenze, che è una cosa che è molto particolare, soprattutto in America è una cosa che viene molto più naturale, invece in Italia è un concetto che non è ancora molto preso a piede, però ti dà molta carica. Quindi qual è l'obiettivo di questo team digitale? L'obiettivo è quello di creare il sistema operativo del paese, quindi una serie di componenti che possono aiutare a rendere i servizi più semplici ed efficaci attraverso il digitale. Perché il digitale ormai è diventato ubiquo, quindi c'è dappertutto, tra i nostri smartphone, sarà nelle macchine, nelle telecamere, in qualsiasi cosa, ormai il digitale è presentissimo, ha nelle nostre case, quindi deve diventare così anche all'interno della pubblica amministrazione. Questo è l'unico modo per cui la pubblica amministrazione e i cittadini possono sentirsi molto più vicini, come con le amicizie con Facebook, con gli altri social network hanno fatto per le amicizie, così potrebbe essere la stessa cosa anche per quanto riguarda il rapporto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni. E quindi il nostro obiettivo è quello di creare quelle che sono le infrastrutture, quindi come metafora viene molto bene quella che quando costituisci una casa, le fondamenta ci sono già, iniziamo a creare quelle che sono le infrastrutture, quindi le tubature, l'impianto a gas, in modo tale che poi chi ci vive possa costruirci, o qui ci vive, o altre aziende possano costruirci le mura, dipingere, però ancora siamo al livello, come diceva Diego, al day one, quindi al giorno uno, nel quale noi dobbiamo iniziare a costruire quelle che sono le fondamenta e le basi per poter digitalizzare la pubblica amministrazione italiana. E poi la pubblica amministrazione italiana ha questa cosa che è molto a macchia di lepardo, ci sono vari posti che sono molto digitalizzati, mentre altri che sono molto meno digitalizzati. Quindi l'obiettivo sarebbe quello di anche prendere chi è più virtuoso e cercare di fare modello di attuazione a livello diciamo nazionale, in modo tale che anche le altre pubbliche amministrazioni, seguendo questi modelli virtuosi, tra cui anche quello del nostro team, possano diventare diciamo virtuosi a loro volta. Questo è un po' quello che è l'obiettivo. Nella presentazione farò una carrellata nei vari programmi e progetti che noi seguiamo, o indirettamente come sviluppo o a livello diciamo di project management, e quindi farò un rapido riapillo di quello che è il CAD, che è una legge, la legge diciamo dell'amministrazione digitale, che poi si è attuata, cioè che viene diciamo, la cui implementazione viene guidata attraverso il piano triennale, che abbiamo partecipato assieme a Agid nella stesura. Poi alcuni dei progetti che sono fondamentali per l'attuazione del piano triennale, che sono Speed, quindi l'identità digitale unica, Pago PA, il sistema di pagamenti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, NPR, che è un progetto, no non c'è problema, che è un progetto molto importante, che è quello dell'anagrafe unica, quindi un unico database per le anagrafe nazionali, cittadinanza digitale che è un'applicazione in sviluppo, poi Developers Italia, Designer Italia, che sono la comunità degli sviluppatori, la comunità dei designer, e poi il DAF, che è il Data Analysis Framework, che è il progetto sul quale sto lavorando anche io, e poi farò un piccolo riepilogo di altri progetti che seguiamo sempre indirettamente o indirettamente. Ok, quindi andiamo ai progetti. I progetti sono, partiamo dal CAD, che è il codice dell'amministrazione digitale, è un decreto legge che è stato, penso, emanato nei primi anni 2000, quindi il concetto digitale non è, nella pubblica amministrazione è un concetto che è nato con questa legge, non del digitale, ma comunque dell'impegno a migliorare, cioè a migliorare la pubblica amministrazione digitale, è questo decreto legge nei primi anni 2000, che ogni anno più o meno viene, viene riemanato con modifiche, eccetera, eccetera. Quest'anno ci sono state varie modifiche importanti, una a cui tengo molto è quello, per esempio, su forzare ancora di più, diciamo, che il software delle pubbliche amministrazioni venga rilasciato in open source. Alcuni progetti sono stati dichiarati per leggi, tra cui il DAF e anche il domicilio digitale. Una cosa importante che abbiamo fatto col CAD, per esempio, è stato quello di pubblicarlo direttamente su GitHub, non so se conoscete GitHub, ma è uno strumento che poi farò vedere dopo, e il fatto di poter utilizzare questi strumenti comuni, che sono comuni anche nell'ambito dello sviluppo e dei programmatori software, è quello che rendono ogni cosa molto più facilmente condivisibile e fruibile dal pubblico. Infatti, noi utilizziamo Read the Docs per pubblicare quella che è la documentazione. Qui potete vedere, per esempio, che il codice dell'amministrazione digitale pubblicato su Read the Docs, invece che essere un PDF difficilmente navigabile, diventa come una pagina web con i link su cui si può saltare i vari emendamenti. Oltretutto è modificabile, quindi è addirittura possibile chiedere una modifica all'interno del CAD attraverso GitHub. Quindi, se tutte le leggi fossero fatte così, anche i cittadini potrebbero chiedere, attraverso delle pull request, per esempio, di modificare una legge e trovare degli errori. Quindi potrebbe essere un processo molto più interattivo e dinamico. Oltretutto, il fatto di metterlo su GitHub rende anche possibilità a tracciare chi fa le modifiche. Questo è un concetto fondamentale per le leggi, perché molto spesso i decreti leggi non si capisce chi abbia inserito l'emendamento, se direttamente il politico, il segretaio, o chi per lui, eccetera, eccetera. Quello ancora potrebbe succedere che il politico se lo fa fare dal suo assistente, eccetera, eccetera. Però, quantomeno, tracciare le modifiche. Per esempio, un progetto interessante che è nato proprio a seguito, diciamo, con il rilascio di... Per esempio, questo qua, visualcad.it, preso, diciamo... è sempre un progetto su GitHub. È preso, diciamo, da... Cioè, il progetto di far vedere le leggi su GitHub. Questo qua è un fork, quindi è una copia di un progetto in Germania. Però qua possiamo vedere benissimo, per esempio, quelle che sono le modifiche alla legge del CAD in tutte le sue varie... i suoi vari emendamenti. Questo qua, vabbè, non è di difficile lettura. Pure io non so bene come, diciamo, spiegarvi cosa c'è. Però, ogni di questi pallini sono in realtà una modifica al CAD e attraverso questo si può vedere... La cosa interessante è che questa qua non è che l'ha stata fatta né da noi, né da... L'ha fatto un ragazzo che si è preso il repository su GitHub di tutte le modifiche al CAD e ne ha fatto questa visualizzazione prendendo un altro fork, cioè un altro progetto fatto da... da... in Germania. E quindi è possibile vedere tutte quelle che sono le modifiche al CAD da... Probabilmente da quando è nato, quindi dal 7 marzo 2005, fino, diciamo, all'ultima sua emanazione. E anche chi... Vabbè, qua non lo so se... Se avete domande, comunque potete pure interrompermi e così possiamo farlo anche in tanto interattivo. portanto siamo in pochi, abbiamo tanto tempo. All'ok, quindi questo è stato il CAD e gli strumenti che noi utilizziamo per il piano trennale. Segue sempre più o meno le stesse... Quindi questo qua è il concetto di avere degli strumenti che sono trasversali in modo tale che tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche i cittadini, possano partecipare attivamente a quello che è... a quello che è... non so come dire... l'open government, quindi il governo aperto di quello che... non dico del paese perché è una cosa grande, però anche solo sentirsi attivi nel processo, diciamo, non solo legislativo, ma anche... ma anche di sviluppo, per esempio, delle applicazioni per le pubbliche amministrazioni, rende tutto molto più... cioè... da questo... anche io, io per esempio, lavorando a questi progetti mi sento molto più partecipe, diciamo, a quello che è lo sviluppo del paese. e lo posso fare chiunque perché chiunque che ha delle competenze tecniche veramente basilari può, per esempio, non so, chiedere una modifica al CAD, una modifica al piano trennale, correggere, per esempio, appena abbiamo pubblicato, diciamo, il piano trennale, persone che l'hanno letto hanno, per esempio, corretto i typo, che ce ne sono sempre. In questo, in questo, diciamo, circolo virtuoso di aiuti, pian pianino, diciamo, per esempio, il piano trennale ha molti meno errori grammaticali oppure può essere anche, diciamo, meno, non so, a volte magari uno ripete le stesse parole più volte, eccetera, eccetera. Quindi il piano trennale in realtà cos'è? Il piano trennale è, diciamo, la messa in pratica delle azioni che sono definite per legge dal CAD e quindi definisce quelli che sono gli obiettivi a tre anni, diciamo, da quando è stato emanato per tutte le pubbliche amministrazioni. Una cosa interessante è che nell'ultima finanziaria, credo, non ho capito bene, tutti i lavori delle pubbliche amministrazioni che seguiranno il piano trennale, quindi per poter implementare il piano trennale, entreranno, diciamo, nel capitolo di spesa al quale si può, diciamo, non cresce il bilancio, una cosa del genere, adesso il termine tecnico non lo conosco. Quindi il piano trennale, oltretutto, il fatto di averlo fatto così pubblico e non una linea guida su PDF magari mandata solo da pubbliche amministrazioni, ci permette di poter rilasciare a scadenza trimestrale o semestrale le modifiche e quindi poter anche aggiornarlo ripetutamente. Quindi non è un piano trennale che io da qua a tre anni questo è, questo lo facciamo. Quando si fanno delle programmazioni a lungo termine molto spesso si bucano le deadline, molto spesso ci sono delle cose che ti hanno creato diciamo dei ritardi e in questo modo noi possiamo aggiustare il tiro mano a mano che le cose succedono. Ok, questo per il piano trennale. oltre il piano trennale noi utilizziamo attraverso anche con Agile praticamente quello che sono cioè quando emaniamo delle linee guida che sono delle linee guida che cercano di dare attuazione alle leggi quindi dei passi da fare per poter attuare per esempio delle leggi del CAD e per un mese noi pubblichiamo noi Agile pubblichiamo sempre su Read the Docs su Docs Italia quelle che sono le linee guida in modalità oddio adesso non mi viene il termine però in consultazione in modo tale che per quel mese lì durante il termine di consultazione tutti quelli che sono interessati soprattutto ovviamente le pubbliche amministrazioni possono aiutare nel correggerle. Quindi c'è un mese intero per cui le linee guida che vengono che vengono emanate possono venire riviste in collaborazione con tutte le pubbliche amministrazioni alle quali sono interessate. Poi vi farò vedere nel dettaglio quelli che sono gli strumenti quindi Read the Docs per la documentazione Github che è per il codice Discourse per esempio il forum e sono tutti progetti open source che noi utilizziamo facciamo nostri e mettiamo a disposizione a tutte le pubbliche amministrazioni. Infatti vi farò anche alcuni esempi di pubbliche amministrazioni virtuose che hanno già iniziato a utilizzare gli strumenti come fossero gli strumenti di lavoro come i nostri. In questo modo si crea proprio un livello che è trasversale a tutti quindi gli stessi strumenti declinati a seconda di quelle che sono le esigenze delle varie pubbliche amministrazioni. E questo porta secondo me un grosso miglioramento proprio nel rapporto e nello sviluppo tra il cittadino. Adesso un altro dei progetti che noi seguiamo è Speed Speed è non so chi lo conosce quindi è l'identità digitale adesso il momento abbiamo più o meno 2 milioni e 308 mila questo qua è un altro strumento perché tutti gli strumenti che noi utilizziamo sono strumenti open source li utilizziamo noi stessi quindi questo qua che vedete è una dashboard sui dati di Speed pubblica che è anche all'interno del nostro sito fatta con un altro strumento open source che si chiama Metabase che poi vi farò vedere quando vi farò la presentazione del DAF e quindi i dati vengono pubblicati all'interno del sito attraverso questo strumento open source qua si possiamo vedere che abbiamo 2 milioni 308 mila come diceva anche Diego stamattina qua vedete che la curva non è molto ampia però pian pianino per esempio agenzia delle entrate dal 16 di aprile farà diciamo speed first per esempio il 730 precompilato quindi noi ci aspettiamo che ci sia un grosso picco diciamo da da metà marzo fino a metà aprile eccetera eccetera qua si possono vedere diciamo quelle che sono le fasce di età per le fasce di età si può vedere soprattutto che ci sono molti diciottenni e molti nella fasce di età 45 54 c'è una percentuale di femmine probabilmente perché questo perché perché sia diciottenni perché speed è stato molto trainato all'inizio dal fatto che è stato era obbligatorio per apprendere il bonus non bonus cultura il bonus 18 app quindi per i diciottenni e per i professori e in questo modo questo ha dato grande spinta soprattutto per i diciottenni e agli insegnanti di cui molto del corpo insegnante probabilmente è femminile questo per quanto riguarda speed poi in realtà oltre a speed abbiamo Pago.pa che seguiamo Pago.pa è il progetto che forse sta andando meglio abbiamo finora adesso diciamo da quando siamo arrivati noi che siamo arrivati a dicembre 2016 a gennaio 2016 avevamo 90.000 adesso questo è un progetto che siamo molto orgogliosi da 90.000 siamo arrivati a 8.250.000 non è che noi siamo il merito di questo però siamo stati un aiuto perché siamo diventati come project manager poi qua la persona che lo segue è una persona in gambissima molto dentro il sistema dei pagamenti e quindi ha riuscito proprio a guidare sia che l'ha implementata sia le pubbliche amministrazioni a entrare in Pago.pa in Pago.pa praticamente permette e permetterà soprattutto con la nuova interfaccia di pagare più cose possibili che le pubbliche amministrazioni metteranno all'interno di Pago.pa direttamente dallo smartphone quindi se uno prende una multa potrà pagare con pochi click l'Atari per esempio a Milano è già pagata comunque le tasse potranno essere pagate sempre attraverso lo smartphone o attraverso i vari portali questo aiuta sicuramente allo Stato perché la registrazione del pagamento della transazione avviene praticamente in maniera automatica quindi tu sai sempre quello che è il flusso di cassa che ti entra per le varie cose poi anche qua abbiamo un po' di dati qua si può vedere diciamo quello che è il piccolo noi stimiamo più o meno che per fine per fine anno saremo sui 20 mili tra i 15 e i 20 milioni di transazioni però non è detto che siano molte di più qua il Trentino è un po' scarso diciamo perché ne abbiamo solo 10.308 al momento se ne parlava anche oggi perché comunque il Trentino ha un suo modello di ha un suo sistema di pagamenti c'è un po' una tendenza diciamo perché col digitale un po' tutti diciamo i micro i micro sistemi tendono a venire accentrati diciamo alla base un po' come le grandi aziende le grandi aziende tendono a diciamo cancellare il piccolo e questo è molto probabile che succeda anche per quanto riguarda il anche quanto riguarda diciamo le regioni eccetera però secondo me questo non è un male perché cioè accentrando però ci si può anche accentrando alcune cose ci si può concentrare su servizi che sono più invece capillarizzabili però questa è un'opinione mia personale Pago Pia poi invece abbiamo NPR NPR è veramente cioè quando siamo arrivati era allo stadio zero allo stadio zero perché c'era un solo comune che era quello di Bagnacavallo che tra l'altro per coincidenza è un comune piccolissimo ma è il comune di origine dei miei nonni paterni quindi io diciamo quando parlavo di Bagnacavallo mi veniva sempre da ridere perché è un posto molto piccolo tra Ferrara e Forlì e adesso invece questo sta andando molto bene ha veramente ripreso piega il ministro dell'interno è molto contento siamo quasi arrivati a 2 milioni di persone su NPR ma tra un po' quando entreranno i grandi comuni e i grandi comuni praticamente tra i NERAN una volta che arriveremo sull'80% dei comuni si potrà dire che la maggior parte che più o meno sarà entro non il 2018 ma il 2019 quasi potremmo dire di avercela quasi fatta per quanto riguarda l'anagrafe unica questo è importante perché quando fai un cambio di residenza adesso ci sono un sacco di pratiche burocratiche e con questo alla fine il cambio di residenza sarà semiautomatico quindi tu andrai dal comune il comune dirà se ti cambio nel registro ci sarà un cambio dell'entr del database e praticamente le cose saranno state fatte quindi ci sarà anche un grosso vantaggio cioè no un grosso vantaggio un grosso risparmio anche diciamo per quello che sono i comuni noi del Trentino abbiamo fino adesso Rovereto DRO e Soraga e Spor Minore Trento entrerà entro la fine di quest'anno perché stanno aspettando diciamo le elezioni di ottobre mi sembra per poi poter fare il cambio senza avere diciamo problemi con l'emanazione delle schede elettorali ok a parte diciamo questi qua sono i tre grossi progetti pilastri che noi stiamo seguendo un progetto che a me piace moltissimo a Divelo Persitalia a Divelo Persitalia ha lo scopo di diventare la comunità degli sviluppatori della pubblica amministrazione italiana questo per me è molto importante perché è molto importante la condivisione del lavoro del lavoro diciamo tecnico di programmazione a livello paese in modo tale che se una cosa fatta bene a Trento perché deve rifarla a Forlì si possono utilizzare anche perché poi le risorse in realtà sono sempre poche anche gli sviluppatori all'interno della pubblica amministrazione non sono così tanti e quindi mettere a fattore comune con diciamo codice sorgente pubblicato su Github il forum per poter diciamo scambiarsi le opinioni un Docs Developers Docs Italia per poter diciamo rilasciare la documentazione questo crea un sistema virtuoso di condivisione della conoscenza che non può che far bene diciamo al paese una cosa molto interessante è stata che abbiamo anche fatto un grosso hackathon a livello nazionale e per esempio per quanto riguarda il progetto che seguo noi abbiamo avuto grosso aiuto da parte di persone esterne alla pubblica amministrazione quindi sviluppatori che solo perché avevano tempo da dedicarci o gli piaceva il progetto hanno fatto pezzi di codice anche fatti molto bene che noi adesso utilizziamo anche in produzione e quindi ci hanno fatto praticamente lavoro gratuito che in realtà sarebbe stato pagato molto in termini di persone e la stessa cosa stiamo facendo anche per la comunità dei designer la comunità dei designer è un po' più difficile diciamo da far partire perché comunque mentre la comunità degli sviluppatori è innato nello sviluppatore diciamo la condivisione del codice i designer ancora non hanno tutti questi strumenti per poter condividere diciamo quello che è il design e quindi pian pianino comunque stiamo riuscendo infatti adesso rilasceremo i vari kit di design che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per esempio per creare il proprio sito per creare le proprie applicazioni mobile ma non solo quello anche per proprio iniziare a usare quello che viene chiamato l'user centered design quindi diciamo mettere al centro la persona il cittadino fare diciamo delle specie di survey per chiedere quali che sono i bisogni come interagiscono diciamo con l'applicativo ancora prima diciamo che venga sviluppato e io credo molto che sia molto importante che lo sviluppo sia guidato diciamo dall'interfaccia dal design non tanto dalla mente dello sviluppatore o di un project manager per questo diciamo taglia molto i tempi di sviluppo e ti aiuta molto a creare solo le cose che sono fondamentali diciamo per quello che è l'interazione questo per quanto riguarda il livello di DPI il DAF invece che è la cosa che io mi occupo soprattutto è una piattaforma per l'analisi e la condivisione dei dati all'interno dell'EPA sia open data che private dati privati noi offriamo adesso vi farò una live demo questa era l'idea vediamo se funziona internet abbastanza bene ok qua praticamente il cittadino anche il cittadino comune anche se avrà a disposizione meno meno strumenti di quelli che vi faccio vedere adesso adesso questo qua diciamo che è un il target di quello che io simulo è un è un data scientist diciamo quindi uno che ci sa fare con i dati all'interno della pubblica amministrazione quello che può fare è caricare dei dati che poi vi farò vedere molto velocemente come si fanno caricare i dati metadatarli secondo diciamo delle ontologie in modo tale da poter fare una certa standardizzazione del dato che entra questo è una cosa molto complicata che cui siamo diciamo al 20-30% dello sviluppo però pian pianino stiamo facendo facciamo progressi e oltretutto adesso vi faccio vedere quello che si può fare quindi si hanno a disposizione si possono cercare all'interno diciamo del catalogo come fosse un catalogo open data un catalogo quindi qua possiamo cercare i dati del MIUR per esempio se c'è qualcosa ok quindi ci sono diciamo c'è un dataset il dataset è un concetto fondamentale in questo caso il dataset ha una modalità di caricamento in questo caso si usa l'SFTP ma noi supportiamo anche web service sia in post che in pool abbiamo diciamo la possibilità di fare uno scaricamento quindi bulk download noi lo chiamiamo quindi riscaricarti il dato in questo caso è sempre in formato JSON puoi vedere la preview di quello che è lo schema quindi quello che c'è dentro nel dataset consumarlo attraverso delle API in automatico quindi fare anche delle group by dei filtri eccetera eccetera hai delle possibilità per esempio noi mettiamo la possibilità degli strumenti per fare analisi in questo caso abbiamo messo a disposizione cioè mettiamo a disposizione di superset e metabase adesso vi faccio vedere se riusciamo a fare velocemente questo qua è un dataset delle scuole paritarie vediamo se funziona ok in questo caso si può fare una visualizzazione semplice ok in questo caso abbiamo creato una visualizzazione semplice del dataset che era stato caricato da qualche pubblica amministrazione qua lo chiamiamo noi questi strumenti qua li diamo questo qua sicuramente è molto probabile che sia a disposizione di tutti i cittadini e in questo caso noi cosa abbiamo fatto abbiamo creato una visualizzazione di un dataset penso open data caricato una volta salvato questo diventa diciamo un'altra rappresentazione del dataset stesso ok e quindi adesso penso che è questo quindi cosa succede questo dataset viene arricchito con una visualizzazione una rappresentazione che lo che lo rappresenta oltre a superset noi anche mettiamo a disposizione un altro strumento che si chiama metabase questo soprattutto per gli open data con metabase si possono fare le stesse cose adesso qua non ci sono ancora i dati del Trentino ma probabilmente li caricheremo questa settimana o la prossima ok qua si può vedere i dati e si possono fare sempre le stesse cose che ho visto questo è uno strumento un po' più semplice qua non so neanche cosa c'è dentro ma vediamo no questo non serve vabbè comunque l'idea penso che avete capito quindi l'arricchimento del dataset attraverso diciamo strumenti per visualizzarli voi tutto quello che vedete sono strumenti open source quindi noi prendiamo strumenti open source li configuriamo secondo per poter entrare nella nostra piattaforma e poi li diamo a disposizione a le pubbliche amministrazioni sicuramente che aderiscono al DAF anche diciamo a studenti cioè a chiunque a cittadini che vogliono utilizzarlo o che sanno utilizzarlo poi vi farò vedere diciamo come utilizzare uno strumento che è più più tecnico che si chiama Jupyter quindi notebook per fare diciamo della data science un po' più un po' più spinta con cui si possono fare anche machine learning e cose un po' poi se abbiamo tempo vi faccio vedere che avevo preparato come caricare questo da un dataset dentro diciamo un notebook e fare delle piccole analisi simili a quelle che vedete un'altra cosa interessante cioè oltre diciamo al fatto di il dataset è stato qua ci sono tutti i dataset cioè tutti i widget quindi diciamo delle visualizzazioni che sono state fatte adesso vediamo se troviamo anche quella che abbiamo fatto adesso mi dilungo di più questo perché è quello che faccio quindi non lo trovo non so però ci dovrebbe essere quindi qua abbiamo diciamo il concetto bidirezionale dal diciamo dal 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 dataset al grafico e dal grafico al dataset questo secondo me è anche molto importante perché per esempio qua si può vedere quello è il grafico e questo invece è il dataset che lo ha generato o i dataset che lo hanno generato in questo caso un altro dataset oltretutto mettiamo a disposizione diciamo degli strumenti per poter creare delle dashboard sempre con i grafici e pubblicare delle dashboard o delle storie che sono delle specie delle specie di diciamo dei post medium quindi degli articoli che prendono diciamo i dati questo qua per esempio è un articolo creato da una mia collega sul registro nazionale degli aiuti di stato nel quale con il dataset pubblico degli aiuti di stato viene visto come è stata fatta l'analisi che analisi sono state fatte quelle che sono diciamo le considerazioni finali circa circa diciamo questo fenomeno preso in esame poi qua ci sono gli strumenti i dizionari e le ontologie che utilizziamo per la standardizzazione e qua in realtà avete la documentazione come è stato fatto come si può utilizzare eccetera 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 adesso vediamo che ore sono sono i 40 quindi sempre da un dataset adesso questo qua era un dataset farmacie non so se vi interessa potrebbe essere stato questo quindi sempre a partire da qua è possibile per esempio utilizzare i notebook per poter per poter fare delle ops sì ok qui abbiamo aperto il notebook è come se lo ritrovassimo qua un notebook non so se per chi lo conosce diciamo data science è possibile diciamo fare diciamo delle analisi un po' più approfondite rispetto ai grafici quindi si può creare facendo un semplice copia e incolla da qua queste linee di codice dentro qua qua per esempio vediamo se funziona ok ok si si carica si carica come un data frame un data frame è una struttura dati per l'attraverso la quale si può poi si possono fare o visualizzazioni noi metteremo a disposizione tutta una serie di librerie per fare diciamo analisi o analisi statistiche o machine learning addirittura fino a arrivare a fare anche un po' di intelligenza artificiale e poi i notebook si possono utilizzare un po' per tutto questo per quanto riguarda il DAF un altro concetto molto importante del DAF è che noi mettiamo a disposizione tra le varie pubbliche amministrazioni la possibilità di condividere i dati quindi se l'agenzia delle entrate pubblica dei dati o IST pubblica dei dati il dato stesso può essere diciamo condiviso con le altre pubbliche amministrazioni che sono interessate a quel dato adesso diciamo per poter per poter condividere un dato con le amministrazioni si fanno convenzioni one to one di cui ci vogliono anche dai tre ai sei mesi per poter attivarle in questo caso in realtà tutto ciò che nel DAF è che una pubblica amministrazione può scerare con un'altra pubblica amministrazione viene diciamo praticamente in automatico vai vai allora probabilmente magari è una sciocchezza allora ministero salute farmacie noi abbiamo dati relativi alle nostre farmacie ok ce li ha il comune e forse ce li ha anche l'azienda sanitaria e se tutto va bene l'azienda sanitaria ok allora voi allora siccome esatto pubblicati eccetera siccome sappiamo che a volte il luogo il centrale tipo il ministero potrebbe a volte hanno dei dataset molto più ricchi di quantità di dati perché raccolgono da tutti però a volte sono meno curati no per forza ecco perché glieli mandi così si manda che sui dati delle farmacie ecco che è diverso invece dai dati che abbiamo noi allora voi dentro la piattaforma state facendo merge e provando a fare arricchire o individuare differenze fra stesso entità voglio dire le farmacie ok che vengono da dati nostri e quelli che vengono dal ministero e provare a vedere cosa succede allora su questo abbiamo vari allora ci sono varie abbiamo varie attività una sui dati che ci interessano di più che lo facciamo noi direttamente quindi prendiamo dai vari soggetti vediamo chiediamo di rifarci magari la pulizia o come mai questi non vanno perché non mi aggiungi anche questi dataset poi metteremo comunque a disposizione per esempio con un notebook è facile farlo quindi noi abbiamo questo concetto di dataset derivati quindi tu tu che usi il DAF questi dati sono pubblici puoi creare un dataset derivato che è o la somma o è un distinct o è un cleaning di quello che e quindi sì 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 cioè noi a noi ci piace molto l'idea di community trasversale quindi diciamo alla fine la community si prende cioè uno che gli interessa si prende in carico questo per quello che ci interessa per analisi che facciamo noi direttamente lo facciamo noi però ovviamente non è che siamo centinaia che possiamo curare la qualità di tutti i dati lo faccio io che magari mi è utile in qualche modo capisco anche come mergiare i due dati però poi immagino che valga per tutti quindi a qualche punto qui c'è anche un riuso potenziale di questo notebook che ho fatto no no i notebook cioè tutto 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 beh adesso cioè i notebook sono integrati ma non sono ancora integrati a livello di API eccetera eccetera però l'idea è sempre quella sì o che il notebook va direttamente su Github o che il notebook viene diciamo condiviso all'interno della piattaforma quindi la community si condivide queste cose documentate sì 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 ma questo concetto qua è trasversale in tutti i progetti che abbiamo cioè quello della condivisione della conoscenza di quello che si fa e di rimettere a disposizione dell'utente infatti adesso quando avrò finito diciamo con farò vedere quelli che sono gli strumenti e vabbè noi non abbiamo avuto il tempo di creare diciamo la comunità dei dati quindi o dei data scientists però sarebbe cioè un'idea a lungo termine è quella di creare anche la comunità dei sviluppatori come c'è la comunità diciamo dei designer anche fare la comunità diciamo di chi si interessa dei dati ok quindi questo guarda invece ci stanno inanza adesso salto dal DAF e ok vabbè del DAF vi potevo far vedere un'altra cosa che noi facciamo anche open data as a service quindi dati caricati all'interno del DAF possono diventare anche diciamo open data as a service quindi adesso qua probabilmente sarà un problema con i certificati ma noi lo saltiamo ok e quindi anche i vari comuni che non hanno già un catalogo loro potranno avere il proprio catalogo cioè diciamo un catalogo filtrato con gli open data solo del comune di appartenenza quindi in questo caso è un concetto di open data as a service con tutti gli strumenti per esempio questo qua è una storia fatta con gli strumenti che in realtà è vuota però praticamente il concetto è penso che sia chiaro questo per quanto riguarda il DAF invece cittadinanza digitale è un'altra questo qua è uno dei progetti più ambiziosi secondo me è quella di mettere in un'unica applicazione tutte molte delle comunicazioni che la pubblica amministrazione ha con te ha con te quindi quando ti scade la patente per esempio o cioè quando hai pagato le multe i documenti che ti sono arrivati è un concetto esteso un po' diciamo di quella che potrebbe essere qua per esempio in Trentino che è quella sanitaria quindi potrebbe essere un concetto esteso magari non con i dati sanitari che quelli sono molto 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 sensibili anche se comunque sono diciamo protetti da quindi potrebbe essere un'applicazione con entrata speedbase nella quale il cittadino può parlare con la pubblica amministrazione questo è importante cioè noi metteremo a disposizione per esempio delle API per esempio per la pubblica amministrazione per mandare le notifiche quindi quando tu magari sei che ne so dovresti pagare una multa c'è un po' che non la paghi oltre a raccomandata ti potrebbe arrivare direttamente diciamo sull'applicazione il reminder che devi pagare la multa oppure che c'è una scadenza c'è una scadenza breve questo è molto importante perché se riusciamo ad avere speed pago.pa e tutte queste piattaforme che hanno un certo diciamo user base abbastanza grande tutte queste cose vengono quasi in automatico quindi avendo lo speed avendo il codice fiscale si può andare a cercare in questo servizio quelle che sono le informazioni e quindi diciamo inviarle anche all'utente questo per quanto riguarda cittadinanza digitale altri progetti che seguiamo sono per esempio l'ex-datification quindi è il nuovo normativa per gli avvocati non so che ci sono avvocati ma ci sono avvocati il nuovo normativa è un modo cioè normativa è il modo che ha l'avvocato per andare a cercare diciamo le leggi all'interno diciamo del database delle leggi della gazzetta ufficiale diciamo e noi lo stiamo cercando di farlo un po' più intelligente tra poco avremo un go live di test che ci aiuta IPZS che è il poligrafico dello Stato e sicuramente abbiamo migliorato molto quello che è la user experience e anche diciamo stiamo cercando di migliorare anche quella che è la ricerca diciamo all'interno diciamo del corpus normativo poi il responsable del closure riguarda molto più la sicurezza è un progetto a livello europeo per poter diciamo diciamo normalmente gli hacker quelli diciamo che fanno in frango le leggi ci sono gli hacker buoni e gli hacker cattivi noi cerchiamo di dare una certa di dare cioè di dare una netta demarcazione tra quelli che sono gli hacker buoni e gli hacker cattivi e dare gli hacker buoni gli strumenti per poter dire alle aziende o anche alle pubbliche amministrazioni guarda che tu hai una falla di sicurezza è meglio che la giusti prima possibile questo è una questione molto ambigua perché il legislatore fa fatica a distinguere chi è buono e chi è cattivo e molto spesso anche chi è buono e fa diciamo questa segnalazione rischia di correre in in problemi legali in questo modo noi stiamo cercando a livello europeo di spingere perché sia garantito per l'hacker buono la possibilità di cercare questo aiuterebbe molto anche perché il tema della sicurezza è un tema molto importante che avrà sempre più importanza a livello mondiale e quindi anche lì la comunità degli hacker buoni è un esercito di persone che potrebbe aiutare diciamo nel riparare quelle che sono le falle di sicurezza un API marketplace quindi avere l'API della pubblica amministrazione in un unico posto alla quale noi sviluppatori o noi PA possiamo attingere per avere diciamo dei servizi out of the box senza dover implementare nulla l'e-procurement per adesso diciamo il procurment non so neanche come si dice in italiano comunque il procurarsi diciamo contratti e cose a livello digitale è ancora molto legato a quello che è l'analogico quindi i bandi di gara eccetera eccetera però il mondo digitale è molto più veloce ha bisogno di altri tipi di contratti e noi stiamo cercando lentamente di migliorare anche quello che è il processo che è molto importante ma anche molto difficile quindi non so cosa riusciremo a fare poi abbiamo siti scuole e vari altri progetti avanti progetti adesso volevo parlarvi un po' di quelli che sono gli strumenti trasversali che noi utilizziamo quindi c'è GitHub per quanto riguarda se andate sotto GitHub slash Italia noi cerchiamo di pubblicare tutti quelli che sono i nostri progetti open source qua trovate buona parte del DAF oppure non so se volete integrarvi un'applicazione all'interno della CIE trovate l'SDK per CIE oppure il sito di Docs Italia come è stato fatto o una lista di odontologie e vocabolari controllati di riferimento un po' stiamo cercando di mettere tutto il software che riteniamo che possa venire condiviso nelle pubbliche amministrazioni questo è stato un progetto questo è molto importante anche perché veramente per noi per esempio abbiamo avuto un sacco di contributo che sono esterni al team o ai collaboratori del team e questo veramente fa partire diciamo quella che è la comunità degli sviluppatori che dà una mano vera diciamo in quello che è lo sviluppo del digitale all'interno del paese Discourse invece è forum non so per chi di voi segue il team digitale quindi se andiamo su ok questo è il forum è un modo che le PA hanno le PA e comunque anche i cittadini possono fare domande sui progetti che noi seguiamo quindi Spidan EPR Cigo Pago PA e avere delle risposte è un forum pubblico della pubblica amministrazione e questo è un po' debolante perché questo tipo diciamo di interazione normalmente nella PA viene attraverso email private però è molto probabile che la stessa domanda ce la possono avere dieci amministratori quindi molto spesso la risposta non serve che dai dieci risposte ma ne dai solo una oppure tu che la sai leggi una domanda e puoi dare la tua risposta in questo modo comunque è sempre il concetto di condivisione della conoscenza dei dubbi e delle soluzioni anche questo è un progetto open source e l'altro progetto che ci tengo a mostrarvi per esempio è Read the Docs Read the Docs Italia appunto Read the Docs è sempre un altro progetto open source che abbiamo fatto nostro che si è diciamo declinato in quello che è Docs Italia Docs Developers Italia ok e qui invece la documentazione la varia documentazione tecnica che c'è la documentazione tecnica di developer c'è le linee guida del design le linee guida nazionali per la lavorazione del patrimonio pubblico è un nuovo workflow per pubblicare i documenti della pubblica amministrazione sia Agid che lo sta utilizzando per esempio c'è non so Ciro Spataro del comune di Palermo che ha fatto che lo sta utilizzando ha fatto anche un po' su Medium su come diciamo da Google Docs avere Read the Docs cioè avere diciamo la stessa cosa in Read the Docs e poi entra qui e quindi diciamo che anche piccole pubbliche amministrazioni o comunque persone attive a cui piacciono queste cose iniziano diciamo a diventare partecipe di questo che è quella che per noi è una specie di rivoluzione nel modo in cui la pubblica amministrazione si anche si si propone all'esterno quello che a me piace è proprio che tutti questi concetti sono concetti che vengono dal mondo diciamo dello sviluppo dello sviluppatore però possono venire declinati in tanti modi e quindi lo stesso concetto che ha fatto la fortuna diciamo dello sviluppo software può anche diventare la fortuna dello sviluppo di metodi processi all'interno delle pubbliche amministrazioni quindi un documento perché deve solo seguire la solita trafila arrivare in un pdf venire stampato e poi morire sulla scrivania di qualche dirigente in questo modo si può dare tutto un flusso continuo e vivo diciamo alle cose che vengono fatte poi vabbè open api anche lì faremo delle linee guida guida su come pubblicare delle api poi faremo l'idea è avere un happy marketplace della pubblica amministrazione in cui se tu hai bisogno non so per esempio della lista dei comuni per fare il tuo form perché devi andare a prenderti la lista dei comuni e metto nel tuo database puoi avere già l'api con tutta la lista dei comuni che viene fornita da istat in modo tale che il tuo drop down per scegliere il comune è sempre quello per tutti oltretutto avrai l'unico codice istat che tu potrai anche unire con altre cose eccetera eccetera superset jupiter sono tutti strumenti open source che noi mettiamo a disposizione per esempio per fare delle analisi e quindi diciamo questo concetto trasversale di open source condivisione condivisione dei metodi condivisione degli strumenti pian pianino diciamo quello che noi vediamo è quello che sta prendendo piede all'interno di varie pubbliche amministrazioni quindi noi lentamente stiamo vedendo che la trasformazione digitale che avevamo in mente che Diego aveva nella sua testa diciamo con gli undici punti del suo programma quando è iniziato stanno pian pianino diciamo prendendo piede ovviamente tra mille difficoltà tra diciamo anche tanti bassi ma anche tanti diciamo tanti successi se avete domande ho finito ringraziamo appunto Alessandro Ercolani per averci spiegato appunto le ultime novità nel campo della pubblica amministrazione e nel campo appunto digitale se ci sono domande prego allora visto da una che è qua dentro a queste cose qua da un po' quello che è successo in questo anno e mezzo due anni quanti sono un anno e mezzo un anno e mezzo un po' meno perché se no arriviamo vicino è molto interessante perché sicuramente c'è stata un'accelerazione dei risultati come è stato detto stamattina anche si vede anche un po' come si sono sbloccati dei progetti di cui si parla da tantissimo tempo e ci sono state delle nuove modalità di lavoro sicuramente che abbiamo visto adesso il forum e usare il gtab e tutte queste cose qua perfetto quello che la problematica secondo me che resta è che può avere un rischio in tutto questa cosa è che appunto questo qui è un progetto a tempo intanto e che a me mi vienza l'ansia l'altra cosa è che come diceva stamattina Piacentini manca quella fascia media nelle pubbliche amministrazioni italiane cioè ha detto che mancano le competenze perché da un certo punto in poi siamo vecchi siamo vecchi e per cui ad esempio io stessa che io dico che sono vecchia effettivamente un po' vecchietta lo sono però bene o male sono stata fortunata che sono stata stimolata in tutti questi anni con gente più giovane capire tante cose io ultimamente non riesco più a starvi dietro personalmente cioè faccio fatica perché è un è un po' come con i social con tutte queste cose il digitale è favoloso permette un sacco di tool un sacco di cose interessanti ma poi anche ti fa fuori un sacco di tempo per cui quei documenti che sono bellissimi e interessantissimi perché ogni volta che ho del tempo per fermarmi e guardarli ci imparo molte cose corrono il rischio di finire su read the doc e poi non li legge più nessuno sono pubblicati e non riesce più a leggerli nessuno questo da un lato quindi bisogna stare un po' ragionare un po' sulla governance in un passaggio successivo va benissimo accelerare adesso io non mi aspetto che ci si fermi a ragionare sulla governance perché abbiamo ancora da finire delle cose importanti però a un certo punto bisogna anche capire come facciamo a non morire sommersi dai materiali e dalle stimolazioni da un lato da quell'altra che è sempre un problema di governance è importantissimo che questa cosa sia partita dal centro perché non poteva che partire dal centro perché di regioni che avevano fatto delle cose interessanti ne abbiamo avute tantissime ne abbiamo in Italia ma non basta che sia una regione che fa una cosa serve a quella regione serve a qualcuno intorno ma è fondamentale che ci sia un coordinamento a livello nazionale ci sia un posto che dà delle direttive linee guida un modo di fare però poi è molto importante che si capisca qual è il ruolo invece delle periferie perché tu lo sai perché tu abiti qua e conosci questa periferia che è anche una periferia fortunata e sei ora andato a lavorare a Roma ma quando parli con noi e quando parli immagino a Roma anche col tuo team eccetera sono mondi un po' diversi quando dobbiamo sviluppare tutti la stessa qualcosa per la stessa utente finale che è il cittadino quindi secondo me va benissimo si va avanti così e come c'è è importantissimo che ci si coordini ma è molto importante che ci sia questa dimensione di rete e di feedback continuo ecco basta il problema generazionale c'è dappertutto nella sanità nell'università cioè quello è proprio un problema dell'Italia che io spero personalmente che a un certo punto ci sia una missione di gioventù un po' dappertutto e quindi con quello probabilmente nella pubblica amministrazione uno dei temi che era molto caro a Diego però non è riuscito a fare molto era quello diciamo di riuscire a cioè quello delle competenze e quindi far entrare nelle pubbliche amministrazioni delle competenze nuove come quelle che è riuscito lui a portare dentro diciamo nel suo team però su questo è molto complicato perché fare le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione è difficile e quindi su questo non si è riuscito anche se io penso che a un certo punto tra qualche anno ci sarà diciamo per forza uno svecchiamento della classe dirigente in generale a tutti i livelli e quindi sarà anche nel digitale e quindi probabilmente ci sarà anche diciamo nuova nuova linfa anche perché comunque i giovani noi lavoriamo anche con ragazzi di 20, 22, 25 anni e sono veramente bravi quindi è un peccato che non possano essere è un altro tema che questo qua secondo me concentra molto col Trentino che abbiamo un'ottima università gente giovane è il tema degli stipendi e anche della valorizzazione diciamo individuale perché gli stipendi qua io lo so sono bassi e quindi diciamo molti miei amici colleghi se ne sono tutti andati quindi bisogna trovare un modo per far rimanere le persone che hanno questo tipo di competenze che sono ricercate a livello nazionale cioè a livello mondiale o non so con incentivi per fare delle aziende cioè magari non con soldi diretti ma con un modo per cui diciamo i giovani che vengono qua per esempio in Trentino possano rimanere non solo per la bellezza diciamo dell'ambiente ma anche perché si sentono diciamo appagati e hanno trovato diciamo si sentono appagati quello dai cioè nel senso perché non scappino via bene e direi appunto che concludiamo questo slot e buon proseguimento del pomeriggio grazie 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 grazie